Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Gio. Oggi ci ritroviamo qui per parlare ancora un'ultima volta di Final Fantasy XVI. Avviso già a tutti gli ascoltatori di questo video che non metterò delle immagini specifiche, metterò semplicemente delle immagini di gameplay, delle immagini di roaming in generale, proprio perché voglio trattare questo video come una sorta di flusso di coscienza, quindi potete tranquillamente anche solo ascoltarlo. Detto ciò, cominciamo. Cominciamo dal parlare appunto dell'inserimento di questi DLC che per me non sono una degna chiusura di un titolo come Final Fantasy XVI. C'è chi ha definito i DLC, ma soprattutto il DLC di The Rising Tide, ovvero l'ultimo appena uscito da qualche giorno e che narra le avventure e narra la storia di Leviathan, come una chiusura discreta del progetto di Final Fantasy XVI. Io non sono d'accordo con questa affermazione, dato che, sia dal punto di vista gameplay che dal punto di vista della storia, l'esperienza di Final Fantasy XVI viene in un qualche modo influenzata e cambiata. Mi spiego meglio. Per coloro che hanno giocato Final Fantasy XVI al Day One o che comunque hanno potuto giocarlo prima dei DLC, l'aggiunta di questi DLC non fa altro che arricchire il titolo dal punto di vista di gameplay, ma al tempo stesso non lo arricchisce dal punto di vista narrativo. Infatti è vero che, cronologicamente parlando, la storia può essere vissuta tutta in una volta, ma questa sarà una cosa che solo i nuovi giocatori potranno fare. Mentre chi, invece, ha già completato il titolo ed ha avuto modo di vedere qual è il destino di Clive, il destino del mondo e il destino di tutto ciò che lo circonda, rimarrà sicuramente un po' spiazzato. Come è successo a sottoscritto? La cosa che a me sarebbe tanto piaciuta effettivamente da vedere in questo DLC sarebbe stata una sorta di Chronicles o comunque una sorta di Tales of, praticamente, di Leviathan. Quindi narrare le origini e narrare del perché è diventato o comunque è stato definito il perduto e non salvarlo per poi vivere in un mondo che da lì, a breve, sarebbe stato completamente collassato. Dal punto di vista di gameplay, addirittura la situazione non so se sia peggiore o migliore di quella narrativa, perché aggiungendo la summon di Leviathan e aggiungendo anche i poteri di ultima, il gameplay cambia in modo radicale. Chi ha già completato la run in Final Fantasy probabilmente non avrà modo di potersi godere e di poter sfruttare appieno i poteri delle nuove aggiunte. A differenza di chi magari incomincerà il gioco adesso, avrà una concezione e avrà una narrazione diversa, potrà anche godere tutto ciò che è stato aggiunto nella sua run successiva. Infine, la cosa che, da un lato, ripeto, mi ha particolarmente deluso, ma non dal punto di vista di gameplay, che ho comunque estremamente apprezzato, ho apprezzato ovviamente riprendere in mano Clive e lo stile di combattimento di Clive, ho apprezzato tantissimo l'escamotage dell'illusione per permettere al giocatore di rivedere un po' il colore che Final Fantasy XVI ha portato un pochettino all'interno del gioco, ma ciò che veramente mi ha un pochettino disturbato è appunto il continuum temporale che non è coerente con l'esperienza di gioco di un giocatore Day One. Perché questo? Perché quando si gioca il DLC di The Rising Tide ed effettivamente si va a concludere si sa già quello che succederà, o almeno il giocatore medio o comunque il giocatore che ha già avuto modo di vivere l'esperienza di Final Fantasy XVI sa già quello che succederà e quindi si ritrova quasi come una sorta di viaggiatore temporale che decide di fare un salto all'indietro e decide praticamente di godersi gli ultimi momenti prima che il mondo possa collassare. A differenza invece dei giocatori nuovi che avranno la possibilità di poter giocare tutto d'un fiato fanno Final Fantasy XVI con gli inserimenti dei DLC. Perché vi ricordo che dal punto di vista cronologico della storia del gioco è tutto coerente essendo che i DLC sono ambientati prima del finale che già conosciamo quindi di conseguenza si avrà modo di poter giocare, di poter interagire e poter ascoltare una storia che ha comunque un senso logico. Il mio rammarico è semplicemente per quei giocatori come me che giocando Day One o tutti quei giocatori che per l'appunto avendo vissuto un'esperienza di gioco adesso la troveranno sicuramente modificata e magari chi si è degnato di completare il gioco già anche in modalità Final Fantasy si ritrova anche un pochettino deluso. Per cui è questo ciò che io personalmente penso di questa chiusura di Final Fantasy XVI una chiusura un po' svogliata e probabilmente un po' raffazzonata in alcuni sensi anche perché nel momento in cui si ricevono i poteri di Ultima si viene a conoscenza del fatto che Ultima a quanto pare non abbia bisogno dei poteri di Leviatano e che possa tranquillamente esprimere la potenza del suo ricettacolo anche senza tutte le vocazioni. Ho avuto modo comunque anche di confrontarmi con Jade su questo argomento e avere modo comunque di poter avere una sorta di conferma e anche una sorta appunto di chiarimento di idee per quanto riguarda il mio pensiero globale. Con questo ovviamente ci tengo a dire che Final Fantasy XVI non lo reputo brutto sicuramente dopo l'esperienza di Rebirth un pochettino fa strano rimpugnare il pad per controllare Clive e per giocare un Final Fantasy che un pochettino ha lasciato l'amaro in bocca a tutti. Detto ciò però ci tengo a concludere dicendo che Final Fantasy XVI rispecchia comunque i canoni e le ambientazioni bellissime che io trovo molto coerenti con una serie di Final Fantasy che però ovviamente secondo me non ha avuto una giusta chiusura e una degna conclusione. Detto ciò io spero che questo video possa esservi piaciuto fatemi sapere ovviamente cosa ne pensate voi di questa chiusura, di questo DLC ma soprattutto adesso che si ha fondamentalmente l'esperienza completa di Final Fantasy XVI avere magari un confronto e un feedback da parte di altri giocatori. Detto ciò io vi ringrazio per essere stati con me e spero di beccarvi con un prossimo appuntamento. Bye bye!